Dal 29 ottobre al 5 novembre vieni in vacanza con i Nomadi. A bordo della MSC Musica, una crociera tra Grecia e Montenegro. Partenza da Venezia e visita ad Atene, Santorini, Olimpia e lo spettacolare Fiordo di Cotor. Una settimana di relax, escursioni, storia, divertimento e a bordo un concerto esclusivo dei Nomadi. Chiama subito e prenota la tua crociera con i Nomadi. Info e costi su radiobruno.it e allo 0536 83 20 30. In collaborazione con Radio Bruno, MSC e Pro Viaggi.